musica 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 mi incanto ogni volta che vedo l'elfa non so per quale motivo ma chissà così casualmente no di qui non c'è niente tra l'altro è altissima c'è alta tipo 1,90m oh qua ci sono i dragar ah ok vai muori yeee adios perfect ora lo rianimo questo e me lo porto appresso posso svuotarli l'oro? ok mentre lo sto rianimando gli rubo le cose quello è rimasto lì e è buggato si direi che è un tantinello chiara di rame con onice figata non fai scattare la trappola oh huh jenna l'ha schivato per fortuna devo dire quello è vivo ok quello immaginavo muorici wow jenna gli fa un casino di danno è troppo facile devo essere onesti veramente troppo facile così facilerrimo direi ok andiamo amico dragar qua ci ne saranno altri sicuramente oh merda uh questo è uno di quelli che combattono con la magia figata ma praticamente fanno tutto l'oro per me io sto qui per i fatti miei wow quanto danno fa oh my god denes c'è un forziere qui andiamo ad aprirlo cosa ci sarà mai al suo interno chi lo sa chi lo sa nooo e dai c'era ce l'ho quasi arrivato ok perfetto gioco dall'anima minuta oro pozione di cura minore pozione di ristoro bracciale di guogano grazie quelli possono restare anche lì risuscitiamo un altro dragar che quello fra un po' morirà in ogni caso è morto per il resto perché ho risuscitato quest'altro ma dettagli benone amico andiamo va yeee sono bastardo senza farmi colpire per gli dèi no stoppiamo questo ok la 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 oh merda muorici wow con un colpo l'ho ucciso incredibile genna up proprio devo dire onestamente genna molto molto up meccati le fiamme yeee ce ne sono vari altri raga è uscita quello così mi aumento l'evocazione frecce elfiche antica spada nord oh merda oh l'ho ucciso lei mi sta salvando il culo tantissimo devo dire genna ha fatto bene a prendermi questa mod frecce elfiche antico spada nord oro grazie mille c'è qualcun altro che vuole morire da queste parti che è bloccato non posso andarci andiamo di qui beh oh una tomba beccati un po' di fiamme attacca attacca genna vai oh yeee addio tizio ci è morto? si ho messo a passo la spada quindi eh vorrei passare possibilmente non mi fate il blocco per favore il blocco stradale grazie mille fatemi passare di qua yeee ho raccolto qualcosa che non di cui non mi fregavo una mazza eeeh ok lascia grazie non ci faccio una mazza con quello un forziere apri il forziere oro eeeh scudo di ferro sessanta no grazie non lo voglio oh posso aprire qui sono arrivato dalla io credo si quindi dovevo andare di qua andiamo amica andiamo amica elfa e dark falia andiamo di qua andiamo di qui la 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 duda duda la 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 ok credo che il mio scheletrino sia morto si decisamente c'è di bello gemma dell'anima minuta oro pergamena palla di fuoco vorrei saperlo fare io non usare la pergamena credo che la venderò quella contro gli scheletri il ghiaccio ha molto poco effetto quindi sto usando le fiamme uh ciao tizia quanto sei sexy verone evocation hai oro? si ho un ingotto d'acciaio anche complimentoni ora dovremmo andare di la però qui sotto che c'è sono curioso di vedere fatemi dare un piccolo sguardo uno scheletro uno skiver dammi la tua coda grazie mille uh yeah così ci sarà mai di bello qui dentro oro pergamena paralisi di massa carino bene andiamocene sopra seguitemi i miei prodi andiamo yeah c'è qualcuno qui da questa parte? sneaky sneaky? mi stanno seguendo boom allora ehm c'è nessuno? uh c'è uno scheletro malvagio lì vai sono salito di livello di nuovo attaccalo oh questo è forte oh my god dragar inquieto oh è ucciso subito incredibile l'ho ucciso subito rianimiamo anche questo vai grandissimo ora ho un draga di inquieto al mio servizio not bad rudifer anti cascia nordano grazie non mi serve una mazza andiamo grazie a tutti grazie a tutti